Buonasera a tutti, è un grande piacere, un grande onore essere qua con voi. Questa sera grazie a IY, grazie a Donato, grazie a tutti gli amici di IY per darmi la possibilità di raccontarvi una bella storia di innovazione. E partiamo dalle domande. IY ci ha abituato in questi anni a porci delle domande sempre più puntuali, sempre più precise, sempre più intelligenti, che ci spingano a provare a dare delle risposte che si spera altrettanto puntuali ed intelligenti. E quindi per provare a rispondere ad una di queste domande ho scelto la domanda che è questa. Quali opportunità dovrebbe cogliere l'Italia per diventare un polo di innovazione attrattivo? E di solito siamo abituati a sentirci dare delle risposte o a darci delle risposte che sono un mondo del venture capital che sia un po' più coraggioso, che possa investire un po' di più. Una capacità delle nostre imprese, siano start-up o imprese più mature, a guardare un po' più oltre, un po' più lontano, un po' più in giro per il mondo, quindi sprovincializzarsi. Un po' un sistema dove le università e le imprese imparino a parlare un po' di più. Oppure ancora le infrastrutture, un problema di infrastrutture digitali, infrastrutture analogiche, anche fisiche, che devono essere più efficienti. Abbattiamo i campanili, cerchiamo di fare più sistema, investiamo di più in ricerca. Queste sono tutte risposte che ci vengono abbastanza naturali quando proviamo a pensare a quella domanda di prima. E allora lasciatemi raccontare una storia, una storia che parte da qua, da questo luogo. Questo luogo si chiama Comonexta, io sono il direttore generale di questo luogo. Questa è una vecchia fabbrica, una fabbrica del 1893, un cotonificio. Oggi questo è un innovation hub, è un polo tecnologico che ha queste caratteristiche. È nato nel 2010, quindi è nato da otto anni, in un paese che sta a metà strada tra Como e Milano, un paese apparentemente insignificante che si chiama Lomazzo, nato dal recupero fortemente voluto dalla Camera di Commercio di Como di un'area ex-industriale di Smessa, con un bellissimo intervento di recupero architettonico di archeologia industriale. Insiste su 21.000 metri quadri e oggi ospita circa 130, questo dato è purtroppo un po' vecchio di qualche giorno, ma oggi siamo circa 130 aziende, e ospitiamo tutti i giorni all'interno di questo luogo più di 700 persone, sono tutti operai della conoscenza, tutti knowledge workers. Da un punto di vista di Bollini è un incubatore certificato MISE, siamo Antenna Digital Innovation Hub, sistema Confindustria Lombardia, e siamo nel Competence Center, capitanato dalla Università di Padova, che si chiama SMACT. Le aziende che abbiamo all'interno del nostro hub si occupano di tante cose diverse, qui ne vedete alcune, ci sono aziende digitali, manifatturiere, ci sono aziende che si occupano di industria 4.0, di aerospaziale, di agri-food, e così via. Quindi un insieme misto di tanti saperi, di tante competenze. Dal 2010 al 2016 il parco, il nostro hub, si è sviluppato attraverso un modello che fondamentalmente era un modello di condominio, un modello in cui mettevamo a disposizione dei belli spazi e dei servizi importanti di base, grazie ai quali aziende innovative erano interessate a entrare all'interno di questo luogo. Quindi abbiamo svolto per un po' di anni una funzione di calamita. A un certo punto nel 2016 ci siamo detti forse è arrivato il momento di cambiare qualcosa, di innovare, di provare a diventare qualcosa di diverso e quindi di lavorare su un modello che fosse invece un modello di community e di catapulta, ovvero la capacità e la possibilità di aggregare, di mettere a sistema tutte le innovazioni e tutti gli innovatori che avevamo all'interno di questo luogo per consentire a loro di esplicitare ancora più innovazione grazie alla contaminazione dei loro saperi e poi, soprattutto, renderla disponibile all'esterno, sul nostro territorio, ma non solo, quindi all'esterno, rispetto ad aziende che avevano necessità di innovazione. Calcoliamo che all'interno di quelle 130 aziende, alcune, in questo momento 32, ma sono sempre variabili i numeri, sono anche start-up, quindi le start-up vivono fin da subito in un contesto in cui si contaminano con quelli che sono magari i loro primi clienti, i primi fornitori o i primi partner. Allora, come abbiamo fatto? Abbiamo provato a ragionare su un modello e quindi sulla possibilità di rendere modello, il mettere a fattore comune tutte le competenze che avevamo all'interno e quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo ragionato sulla possibilità di andare, come polo tecnologico, come hub di innovazione, noi direttamente verso le aziende esterne, quindi verso le imprese sul territorio, a recepire le necessità di innovazione che queste aziende esprimevano. Dopodiché tornavamo all'interno del nostro hub, mettevamo sul tavolo, di fronte a tutti i nostri innovatori, queste problematiche di innovazione in maniera tale da chiedere a loro quale potesse essere l'incrocio e le contaminazioni che servivano per andare nei confronti delle imprese che avevano espresso innovazione a restituire un'innovazione che poteva essere utile. Questo è un modello inclusivo che include evidentemente non solo le aziende, ma anche tutte le università e i centri di ricerca con cui abbiamo relazione. Sono circa una ventina in Italia e più o meno altrettanti in giro per l'Europa. Che cosa abbiamo fatto di fatto? Abbiamo costruito un modello, che abbiamo chiamato Modello Margherita o Daisy Model, che vede la possibilità da parte del nostro hub di costruire dei petali di innovazione, dei petali di consulenza ad assetto variabile, con i quali, quindi, che contengono innovatori presi dalle nostre 130 aziende, tra le nostre 700-800 persone, e che sono in grado di andare in azienda, coordinati da dei project manager nostri, sono in grado di andare in azienda, raccogliere e affrontare le problematiche legate all'innovazione, risolverle e poi tornare in maniera resiliente all'interno delle proprie aziende. Quindi, di fatto, che cosa abbiamo costruito? Un modello di technology transfer dalle imprese alle imprese che è in grado di innestare, quando serve, dove serve, in maniera molto puntuale, la università e la ricerca. Un sistema che coinvolge anche tutti i soggetti territoriali, che sono le associazioni di categorie, nessuna esclusa, ovviamente le università e il mondo dei capitali, che siano di debito o di rischio, anche questi sono coinvolti all'interno del sistema. Ma non è questo il tema fondamentale della storia. Mi serviva per raccontarvi che questo modello è stato messo in pratica da circa 7, 8, 9 mesi, e questi sono i numeri che abbiamo ottenuto in questo poco tempo. Abbiamo incontrato 182 imprese, per la maggior parte piccole e medie imprese, abbiamo emesso circa una novantina di offerte, di queste offerte 31 sono diventati progetti, sono diventati progetti di innovazione, per la maggior parte POC, quindi proof of concept, e soprattutto hanno visto coinvolte all'interno dei lavori di innovazione 58 delle nostre aziende e delle nostre università coinvolte. Quindi dei numeri di successo. E a questo punto che cosa abbiamo fatto? abbiamo detto, beh, andiamo a fare un giro per l'Italia, andiamo a parlare con gli altri poli di innovazione, con gli altri incubatori, e andiamo a cercare di capire quali sono i loro modelli, per capire se fosse possibile incrociare gli uni e gli altri per avere il meglio di tutti e due, per potersi contaminare con gli altri. E la cosa che è successa, che ci ha stupito dapprima, ma ci ha anche inorgoglito, se volete, in un momento immediatamente successivo, è che molti di questi luoghi hanno detto, ma caspita, è bellissima questa cosa che avete fatta, siete riusciti a creare un sistema territoriale che funziona, dateci una mano a replicarlo anche da noi. Possiamo provare a replicare questo modello, questa next innovation, anche nei nostri territori. E allora cosa abbiamo fatto? Siamo tornati a casa, abbiamo cominciato a riflettere un po' sulla possibilità di andare a fare delle copie o delle repliche di quello che avevamo fatto nel nostro territorio e su altri territori. Abbiamo lavorato con alcune università sulla possibilità di creare un modello di replica del nostro modello, abbiamo lavorato con consulenti esterni e alla fine è nato questo progetto, è il prossimo passo, il nuovo passo di questa storia che vi sto raccontando, cioè il progetto C-Next. C-Next nasce dalla possibilità di replicare il nostro modello su altri territori. Quindi siamo tornati da chi ci aveva chiesto l'idea di replica e abbiamo detto sì, siamo in grado di farlo, siamo in grado di farlo attraverso quattro passaggi. Il primo è un passaggio di assessment, bisogna capire perfettamente se su quel territorio ha senso portare quel tipo di innovazione. Il secondo è la definizione degli obiettivi, qual è l'anima, qual è la vocazione all'innovazione di quel territorio. Il terzo è come la si mette in piedi, come si realizza davvero il modello. Il quarto è poi chi lo governa, qual è la conduzione di questo modello di innovazione territoriale. Quindi il tema della governance. Il passo successivo è stato andare da tutti, quelli che ci hanno detto va bene, a noi piace l'idea, cominciamo a lavorare insieme, replichiamo il vostro modello. E il tema è stato la governance. Noi abbiamo chiesto, ci interessa, lo facciamo, però vogliamo poter esprimere la governance anche su quel territorio, perché se il modello funziona ed è importante, dobbiamo essere sicuri che su tutti i territori dove andiamo a calarlo funzioni esattamente nello stesso modo. E la cosa interessante è che ci è stato detto sì, va bene, d'accordo, ci interessa, continuiamo. E quindi che cos'è il passo successivo, quello su cui stiamo lavorando? La creazione di una holding dell'innovazione in Italia che possieda la governance di tutti i poli che andremo a replicare per costruire a questo punto non più una margherita con 150 aziende e 1.000 innovatori, ma per costruire un prato di margherite che sia fatto da 1.500 aziende e da 15.000 innovatori, per dare a questo Paese, in tutta la sua estensione, un modello di innovazione che sia inclusivo di tutti i territori e che sia rispettoso dei soggetti presenti su tutti i territori e che condividano un unico modello. Quindi, per il mio avvio alla conclusione, che cosa è successo e che cosa stiamo facendo oggi? I progetti di replica che sono già partiti sono quelli che leggete qua, Novara, Ivrea, Pavia, Caserta, Sondrio e Milano. A fianco di questi luoghi stiamo anche ragionando e stiamo arrivando con una proposta anche immobiliare che a volte può essere utile, con dei partner immobiliari importanti a livello internazionale e siamo in fase di costruzione della holding, di capitalizzazione e di identificazione dei partner migliori oltre a quelli che abbiamo già in questo momento. E quindi, per tornare alla domanda iniziale, la risposta è per noi la capacità e la possibilità, una volta tanto in questo Paese, di fare sistema e quindi di mettere a sistema tutte le varie componenti e questo è quello che noi riteniamo importante per poter fare sistema, cioè collegare le conoscenze, ottimizzare gli investimenti, leggere, poi il resto lo leggete alle mie spalle, ma la cosa più importante è far capire a tutti e convincere tutti che l'innovazione è un gioco di squadra, che da soli, nessuna azienda è un'isola e da soli non si riesce ad innovare. Grazie. Grazie.